Musica Possibilità di personalizzazioni sempre più ampie e variegate 3 tipologie di veicoli per ogni esigenza. Il 2016 di piloto si presenta nel segno dell'innovazione e dell'evoluzione, soprattutto nella gamma di veicoli con lunghezze inferiori ai 7 metri. Andiamo a vedere tutte le novità del marchio storico di La Limousinière. Prima ancora che le novità in fatto di veicoli, è da segnalare come piloto estenda per la stagione 2016 le possibilità di personalizzazione. Ora tutti i Galaxy integrali, compresi quelli con lunghezza inferiore ai 7 metri, possono essere forniti con i tre livelli di allestimento Essentiel, Sensation ed Emotion. Per i semi integrali Pacific sono confermati gli allestimenti Essentiel e Sensation ma, come già per i motorhome, sono ora resi disponibili per l'intera gamma, compresi i modelli più compatti. La personalizzazione si estende anche all'interno, con la possibilità di scegliere tra 8 set diversi, 4 in tinta unita e altrettanti motivi colorati, che comprendono ognuno una serie di cuscini, tende laterali delle finestre e copriletto coordinati. La red interno poi acquisisce ora una tonalità più scura ed è disponibile anche in finita ruola lucida, mentre resta sempre possibile adottare gli interni in stile Bavaria con mobili declinati in essenza dal gusto nordico. Tutti i letti basculanti, infine, sono ora con movimento, assistito elettricamente. Come accennato all'inizio, Pilot ha esteso in modo significativo la disponibilità di modelli con lunghezze inferiori 7 metri, sia tra i profilati Pacific, sia tra i motorhome Galaxy. Tra i Pacific, il confermato P650C con letto centrale in soli 649 cm di lunghezza si sdoppia nella variante P656C che ha la disponibilità del grande matrimoniale posteriore, associa un letto basculante singolo, come detto ad azionamento elettrico. L'allestimento si completa con il bagno a volume variabile, la cucina lineare e il soggiorno con semi dinette e tavolo ampliabile. Sulla stessa lunghezza di scocca e condividendo la stessa configurazione dal giorno sono introdotti il P650GJ con letti gemelli e la sua variante con letto basculante singolo. Altra novità nella fascia di 7 metri sono il P700 nelle varianti con letto trasversale garage, letti gemelli e matrimoniale nautico centrale, tutti e tre disponibili anche nelle versioni con letto basculante. Anche la gamma di Motorhome Galaxy vede un notevole incremento di varianti con lunghezza inferiore ai 7 metri. Alla base dell'offerta è confermato il compatto G600 con lunghezza inferiore ai 6 metri, rivisto nella disposizione interna che al letto matrimoniale posteriore trasversale con gavone garage, associa ora la toaletta a volume variabile e il frigorifero da 138 litri. Sono completamente nuovi i tre integrali da 649 cm siglati G650, G650C con letto centrale, G650L con grandissima zona living e bagno trasversale a tutta larghezza e G650GJ con letti gemelli su gavone garage. Nella fascia dei 7 metri infine si conferma il G700GJ con letti gemelli presentato all'inizio dell'anno in occasione del CMT di Stoccarda. A questo, oltre alla nuova versione G700G con letto trasversale garage, si aggiunge il G701, disponibile sia con letto centrale sia con letti gemelli, ma caratterizzato soprattutto dall'adozione del telaio ribassato alco e dal doppio pavimento passante con altezza di 21 cm. Novità anche nell'ambito di furgonati, la gamma Foxy Van, oltre ad aggiornamenti che hanno riguardato tra l'altro l'ottimizzazione dello stivaggio nei blocchi cucina e l'adozione di armadi con apertura scorevole, si amplia ulteriormente con l'introduzione del nuovo V540G, allestito sul furgonato Fiat Ducato da 541 cm di lunghezza, caratterizzato dal bagno centrale estensibile per fornire un vero e proprio box doccia indipendente. Ai vertici dell'offerta entrano di prepotenza i Pilot Premium Class, brand con il quale la casa transalpina distribuisce ora per il mercato export i prestigiosi Motron Le Voyageur. Per l'occasione la gamma su telaio Fiat alco è stata completamente rivista con una nuova estetica, frontale completamente ridisegnato e inedito mobilio interno, fornito in due essenze. La gamma articolata su 4 lunghezze di scocca, 6,8, 7,2, 7,8 e 8,5 metri, conta ben 13 varianti, con 5 modelli caratterizzati da un peso totale di 3500 kg e quindi guidabili con patente B. Grazie a tutti.